Lo Stato di Tarifa contiene un gran numero di siti archeologici giuristici e uno dei più importanti e famosi di queste siti è il Palazzo di Fatima, poiché occupa una grande importanza giuristica grazie ai suoi antichi e luceosi edifici manufatti parigiornati, che fanno sembrare il palazzo un bellissimo dipinto. E i manufatti in esso risalgano a secoli fa. Gli antichi e varie civili che si sono succeduti nella regione, come la civiltà ottomana, bizantina e romana, e ciò che distingue maggiormente il palazzo e le sue presenze nel luogo vitali e attraienti che hanno cantoni visitatori della regione. E vicino al palazzo c'è un gran numero di importanti attrazioni giuristiche nello Stato di Tarifa, come al castello del Molino, che si trova nella regione di Alcala.